ciao sono paolo leccese coordinatore cittadino di volt siamo qui perché vogliamo sostenere l'iniziativa di politici per caso perché crediamo che la partecipazione delle cittadini e i processi decisionali dal basso siano fondamentali per mantenere viva la democrazia questa è una responsabilità di tutti noi e soprattutto dobbiamo cercare di avere una rappresentanza omogenea di quella che è la popolazione basti pensare che il 50 per cento della popolazione è al femminile purtroppo nelle nostre istituzioni invece le donne sono molto poco rappresentate invece con questo sistema con questo sistema politici per caso riusciremo finalmente a far entrare nei processi decisionali donne e giovani che purtroppo spesso e volentieri vengono esclusi oppure non si avvicinano la colpa di chi è direi 50 e 50 però dobbiamo sicuramente fare un passo verso di loro